Presentato l'avviso pubblico da 4 milioni di euro messi a bando per valorizzare l'urbanistica e l'edilizia dei comuni della Regione Abruzzo al fine di stimolare la riqualificazione dell'intero sistema territoriale. L'assessore Campitelli sottolinea come in questo modo sostenibile e serio attraverso i contributi si miri al miglioramento della qualità della vita e ad aumentare le dotazioni territoriali come infrastrutture, servizi, spazi pubblici delle nostre città mettendo a disposizione ai comuni fino a 100.000 euro per finanziare o cofinanziare progetti volte a sviluppare il nostro territorio e il tessuto economico sociale. Limitando così il consumo di suolo.